Con 91 nuovi casi accertati nelle ultime ore arriva a 2612 in Abruzzo il totale dei pazienti affetti da covid-19. Cinque i decessi più recenti, il bilancio delle vittime sale dunque a quota 263. I nuovi casi accertati con i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zoo profilattico di Teramo e dall'università di Chieti sono emersi su un totale di 1.274 tamponi analizzati. È risultato positivo dunque il 7,1% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 34 su un totale di 1.028 tamponi analizzati, 3,3%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 263 pazienti deceduti. 287 sono i guariti più 11 di cui 187 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 100 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti 320 più 3 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38 meno 2 in terapia intensiva mentre gli altri 1.704 più 74 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 237 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monell'Aquila numero invariato 606 alla ASL Lanciano Vastocchieti più 35, 1143 alla ASL di Pescara più 50 e 626 alla ASL di Teramo più 6. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 27.942 tamponi.